Un mese dopo l'ultima volta riecco il pallone al centro del campo, riparte il girone C di Serie C, riprendono gli impegni di Pugliesi e Lucane. Tra le sfide di cartello del turno numero 23 in programma di domenica, il quarto del girone di ritorno, Ciavellino Monopoli. Scontro al vertice per la formazione di Alberto Colombo che si presenta ai nastri di partenza del 2022 da seconda della classe. A meno 7 dal Bari e a più 2 proprio sul team di Piero Braia. Difendere il margine sulla terza piazza sarà il primo compito di Starite e Soci che hanno chiuso il 2021 vincendo in trasferta a Catania. Dare continuità a una classifica storica, mai così in alto dopo 20 giornate, e l'input per la Virtus Francavilla. La formazione di Roberto Taurino si affida al fattore campo, sono 23 su 33 i punti collezionati sin qui alla nuova Redo Arena contro il Messina. Quarto ultimo e fresco di novità societarie su tutte, l'addio con il DS Argurio. Impegno casalingo anche per il Foggia. I rossoneri di Zeman, che hanno cambiato volto in settimana con gli arrivi di Rizzo e Vitali, attendono allo Zaccheria e Latina. Obiettivo? Dimenticare il mezzo passo falso di fine 2021 in casa contro il Monterosi e riavviare i motori in chiave playoff contro un avversario che fuori casa sin qui ha fatto fatica, ottenendo solo due punti su nove uscite. Di punti in casa ne ha conquistati sin qui 22 il Taranto. I rosso-blu di Giuseppe La Terza, vittoriosi nell'ultima uscita stagionale contro la Turris, attendono allo Iacovone e la Paganese. Oggi quintultima quota 21 punti, gli stessi del Monterosi, che a Viterbo attende un potenza rinnovato dal calciomercato e a caccia di ossigeno per provare ad abbandonare la penultima posizione, nel giorno in cui c'è la sfida tra terz'ultima e ultima in Vibonese e Fidelisandria. Il programma della ventitresima giornata prevede anche Picerno Turris. Per il team di Leonardo Colucci la priorità è ripartire dal rendimento esibito con la nuova gestione tecnica con 13 punti nelle ultime sei partite. Il test è di quelli probanti. Di fronte ci sarà l'attacco più performante del campionato con 37 reti all'attivo. Fischio d'inizio per tutti alle 17.30.